Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere il mio primissimo video tutorial. Ebbene sì, se così si può chiamare non essendo professionista. Ho voluto realizzare questo make-up dai toni caldi, ma con appunto un tocco particolare, con questo blue teal petrolio. E' realizzato interamente con la Celted Caramel di Makeup Revolution, un palette che io ho acquistato all'OVS qualche tempo fa. E che vi avevo anche mostrato nel primo video haul, se mai vi lascio il link su nelle schede. E niente, io sto amando questa palette, ho deciso di appunto realizzare un total look con questa palette. Spero che l'idea vi piaccia. Spero scusa già da adesso se farò qualche piccola gaff. Fatemi sapere se l'inquadratura va bene, se riuscite a vedere bene tutti i dettagli. Per me è importante sapere la vostra opinione per migliorarmi magari in futuro nei prossimi video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete tanti like, iscrivetevi al canale. E giù nell'info box vi lascio anche tutti i link per i miei social Instagram e Facebook. E niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione e vi lascio al video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.